Vincenzo, intanto parliamo di questo entusiasmo. Tanti tifosi per voi, vi vogliono bene, un bel momento. Beh sì, nonostante il momento un po' così e così, normale, non ci aspettavamo così tanti tifosi. Un bel segnale, vuol dire che c'è una testimonianza d'affetto importante, quindi siamo contenti. Iemmello invece non è per niente contento, di te? Ma guarda, io... Mi hai parato l'impossibile, dai. Quando, se le parate servono a qualcosa, mi fa piacere, se no per le parate in sé mi importa poco. Sono contento che dopo il mio intervento è arrivato il rigore di Leo e quella era la cosa più importante. Dall'altra parte della telecamera ti stanno guardando Benali e Pettinari che tu conosci molto bene. Cosa ti senti di dirgli? Ma sono due ottimi giocatori, sia Stefano che Benali. Gli auguro di ritrovare la vittoria non contro di noi ma magari dalla partita dopo, però rimane la stima e l'affetto sia umana che calcistica. Ecco, secondo me sono due grandi giocatori per la categoria e a me d'ora sono contento che si sia ripreso bene dopo l'infortunio perché credo che in Serie B sia un lusso uno come lui. Perché Benali all'andata ti ha fatto un bello scherzo da lontano? Eh sì, Benali mi ha fatto gol dalla pineta. Speriamo che questa volta gli riesco io a negare la gioia del gol e che possiamo portare a casa finalmente tre punti. Sei d'accordo nel dire che a Foggia si è vista una bella squadra, compatta, con tanto entusiasmo, sapeva quello che voleva fare? Devo dire che dalle analisi che abbiamo fatto poi anche con il mister ne è scaturita una buona prestazione perché comunque abbiamo preso gol a pochissimi minuti dall'intervallo. In un momento così delicato dopo la sconfitta con il Brescia la squadra poteva accusare il colpo, invece la squadra ha dimostrato che caratterialmente è forte. Quindi sono sicuro che se continuiamo così arriveranno questi tre punti. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo il Crotone senza Rodian perde tanta qualità in mezzo al campo, però sta giocando bene con il 3-5-2. Anche il Pescara con il nuovo modulo ha trovato delle belle soluzioni, che partita ti aspetti all'uscita? Beh sicuramente sarà una battaglia perché conoscendo quel campo e la situazione inaspettata che affrontano loro da un po' di tempo, è una squadra di qualità ma adesso i punti iniziano a pesare quindi secondo me sarà una partita molto basata sugli episodi e rimarrà sul filo del rasoio.